Il cortometraggio contro la violenza sulle donne con le mie mani ha superato la seconda selezione al prestigioso Festival Internazionale Un Film per la Pace, uno dei concorsi cinematografici più grandi al mondo nel campo dei diritti umani, organizzato dal comune di Medea in Friuli. Il corto è stato prodotto dal centro produzione di Video Trentino, da Artemisia e dall'associazione culturale Le Sibille, con il contributo della Regione Marche e dell'AMAT. Il film, scritto e diretto da Laura De Sanctis, è interpretato da Fabrizio Romagnoli, Laura Cannara e Jacopo Frascarello e racconta una storia di violenza consumata tra le mura domestiche. I film selezionati vengono proiettati in un circuito di scuole, dalle primarie all'università, a seconda delle tematiche affrontate che danno il risponso finale sui finalisti del concorso. Le premiazioni, che si terranno il prossimo 31 ottobre all'Università degli Studi di Trieste, vedranno la partecipazione di film provenienti da paesi di tutti i cinque continenti che trattano il tema dei diritti umani e combattono ogni forma di abuso e di violenza. Grazie. Grazie.